All'indomani dell'incendio al capannone dell'SM abbazzano di circa 10.000 metri quadri e le certezze sono due. I danni con i mezzi distrutti compresa la piattaforma per la differenziata e quintali di plastica e la natura del rogo di origine dolosa perché i vigili del fuoco hanno trovato diversi inneschi, due o tre vicino alla carta e alla plastica. Ad accorgersi del fumo è stata la vigilanza che passa per i controlli notturni. Il tempestivo intervento dei vigili ha scongiurato i danni alla palazzina che ospita gli uffici. Ovviamente c'erano delle polizie assicurative che l'SM aveva fatto, quindi si è attivato anche questo meccanismo, ma ci vorrà del tempo. C'è ovviamente un'indagine, ma la file rifiuti ce l'ha sempre molti appetiti. Potrebbe esserci l'ombra della criminalità, anche perché attorno all'immondizia girano milioni. E oggi le domande sono tante. Di recente l'azienda aveva avuto un lungo braccio di ferro con il Cogesa, come si ricorderà, per il conferimento nella discarica di Noce Mattei. Stava cercando anche dei siti alternativi. Però non c'era stata nessuna minaccia, spiega l'amministratore. Ecco, due sono le certezze. I danni in mani per voi, che state provando a garantire il servizio, ma ci saranno ovviamente dei disagi. Anche la natura, perché i vigili del fuoco hanno ritrovato degli inneschi. Legato al mondo dei rifiuti ci sono tanti appetiti. Voi vi siete fatto un'idea, avevate ricevuto già minacce? Assolutamente no, nessuna minaccia. Infatti è abbastanza strano, singolare questo fatto, però ovviamente è preoccupante. La situazione dell'azienda è delicata, perché il danno è rilevante, è importante. Cercheremo di sostenere e continuare la nostra attività. Credo che dovremo fare delle scelte più che altro sui mezzi, perché adesso è la parte più delicata. Dal punto di vista dell'aiuto fornito dalle telecamere, le forze dell'ordine stanno scandagliando quelle delle attività vicine. Massimi spiega che in SM era in corso l'installazione del sistema. Intanto i livelli del benzene sono tornati alla normalità. È quanto emerge dal monitoraggio della postazione Arta San Gregorio, mentre si dovrà attendere la giornata di venerdì per le risultanze dei campionamenti fatte dell'Arta e per stabilire se l'allarme per i cittadini potrà rientrare dopo l'ordinanza cautelativa emessa dal sindaco.